Ciao a tutti! Oggi in questo video vi mostrerò come partendo dai broccoli del supermercato grazie a dei semplicissimi trucchi si possono recuperare gli scarti e più precisamente la parte bassa, ovvero questa, che normalmente noi purtroppo buttiamo sappiate che proprio da lei, grazie a dei semplicissimi trucchi, si possono poi fare generare tantissime radici piantine nuove che nasceranno, cresceranno e faranno dei broccoli assolutamente ottimi da mangiare la prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi un broccolo e la cosa bella dell'esperimento è che non dovrà essere per forza bello e buono da mangiare proprio come questo ma potrà essere anche appassito, brutto e non più commestibile proprio come questo, io per esempio questo l'ho dimenticato in frigo e al posto di buttarlo lo utilizzerò proprio per l'esperimento la cosa importante invece è che il broccolo che sceglierete abbia un tronco che abbia un'altezza almeno di 5-6 cm e un diametro che superi i 4 altra cosa davvero importante quando sceglierete il fiore è che il suo tronco sia perfettamente sano quindi che non presenti tracce di funghi, muffe, batteri o peggio ancora marciume alla base perché se no ci sarebbe proprio il pericolo concreto che in corso d'opera durante l'esperimento tutto marcisca e che voi poi il risultato non lo otteniate ed una volta scelti si potrà procedere essenzialmente in due modi se come in questo caso è secco non si potrà utilizzare la parte di sopra quindi lo si potrà prendere e passare allo step successivo così com'è invece se come in questo caso la parte sopra è ancora commestibile io consiglio con un taglionetto di tagliare il tronco, mangiare la parte sopra dopodiché utilizzare questo quindi se ricadrete nel primo caso non resta altro che prendere un contenitore in vetro trasparente come un bicchiere sarebbe davvero perfetto riempirlo con 8-9 cm di acqua dopodiché prendere il broccolo e andare semplicemente ad inserirlo all'interno in questo modo dopodiché posizionare lui in un punto dove prenda molta luce ma non i raggi del soli diretti e assicurarsi che il livello dell'acqua sia sempre superiore almeno di 5 cm rispetto alla base del broccolo stesso nella seconda ipotesi ovvero quella nel quale il broccolo è ancora ottimo da mangiare proprio come in questo caso io consiglio di separare la parte sotto quindi il tronco e la parte sopra consumarla subito in questo modo insomma non sprecherete davvero nulla e a quel punto basterà prendere un coltello e andare proprio nel punto dove iniziano le diramazioni e con un taglionetto tirare via così questo lo si potrà consumare tranquillamente e questo invece lo potremo utilizzare per l'esperimento procurarsi tre stuzzicadenti esattamente come questi ed infilzarlo in questa maniera avendo l'accortezza di mettere leggermente inclinato rispetto all'asse del tronchetto e ciò che dovrete ottenere alla fine sarà un qualcosa di molto simile a questo procurarsi un altro bicchiere e riempire anche questo quasi fino all'orlo dopodiché prendere il tronchetto ed andarlo semplicemente ad inserire all'interno e come si può notare il tronchetto verrà sostenuto così facendo la parte inferiore del tronchetto non andrà direttamente a toccare il fondo del bicchiere e le radici si potranno sviluppare senza problemi primi risultati la nascita delle radici dopo neanche una settimana da quando l'abbiamo inserito all'interno dell'acqua riprendendo il tutto e tirandolo fuori guardate alla base che cosa si è spuntato ci sono delle magnifiche radici che sono date e adesso sono lunghe circa 3 cm provo a mostrarvi meglio come ma soprattutto dove siano nate le radici proprio dove è avvenuto il taglio in pratica dove c'è la corteccia quindi non nella parte centrale ma nei bordi e qui ne stanno nascendo delle altre trascorsi altri 4 giorni riprendendo il tutto guardate un po' come l'apparato radicale si sia ulteriormente sviluppato quindi le radici che già esistevano sono cresciute adesso sono circa 8 cm e ne sono nate delle altre arrivati a questo punto si potrà procedere con le operazioni successive quindi la prima è quella di togliere tutta la parte floreale del broccolo quindi tutta la parte superiore e basterà semplicemente prendere un coltello mi raccomando sterilizzatelo prima di utilizzarlo e semplicemente andare a tagliare in questo modo quindi si è così ottenuta la parte superiore che purtroppo in questo caso essendo non buona da mangiare dovrà essere buttata e la parte inferiore dal quale poi si spera che nascano delle giovani piantine e quindi ottenere poi un nuovo raccolto questa si può eliminare via alla fine del taglio questo è ciò che si è ottenuto quindi un tronchetto alto circa 8 cm alla base pieno di radici e all'apice con un taglio che adesso è vivo ma lasciandolo semplicemente all'aria nel giro di circa 48 ore si creerà una pellicola protettiva naturale che farà la barriera per eventuali funghi, muffe o batteri che dall'esterno potrebbero andare all'interno della pianta intaccandola procurarsi un vaso che abbia un diametro di almeno 15 cm e riempirlo con del terreno che sia soffice e drenante fare un foro di circa 4-5 cm nel centro e facendo attenzione a non rompere le radici andare ad adagiare piano piano in questo modo il tutto all'interno fate in modo che sia coperto circa un paio di centimetri partendo dal fondo quindi partendo dal fondo andando su di due interrare così leggermente rinzaffare il terreno intorno in modo che le radici rimangano attaccate al tronchetto dopodiché prendere un po' di terra ed andare ad inserirla e questo è il risultato finale durante questa operazione è davvero importante che nel punto di taglio non finisca assolutamente la terra e nemmeno adesso che si andrà a bagnare l'acqua perché in questo modo si potrà asciugare senza che vadano a crearsi passatemi il termine infezioni alla pianta trascorsi soltanto cinque giorni riprendendo il tutto si può notare che nel punto di taglio la parte che prima era viva adesso si è completamente asciugata ed in più andando a guardare alla base guardate cosa sta avvenendo è nato un piccolo germoglio e se tutto andrà bene questo si svilupperà e diventerà la vera e propria piantina è circa un centimetro però già si vede chiaramente come si stia formando trascorsi altri due giorni riprendendo il tutto si può notare che il piccolo germoglio si è sviluppato e adesso è alto circa 3 cm e andando a guardare lungo il perimetro attaccato al filo del terreno guardate un po' ce n'è addirittura un altro questo che è il primo che è nato alto circa 3 cm direi che si sta formando in una maniera assolutamente perfetta e girando andando a guardare anche l'altro guardate un po' è ancora in fase praticamente embrionale ma assolutamente perfetto e sano anche lui trascorsi soltanto altri tre giorni guardate un po' come i piccoli germogli si siano ulteriormente sviluppati stanno crescendo in una maniera assolutamente perfetta primo possibile risultato e col passare del tempo i giovani germogli tenderanno a crescere e a svilupparsi e lo potranno fare essenzialmente in due modi il primo, quello più usuale è il fatto che anziché cresceranno la piantina si sviluppi direttamente il broccolo però a quel punto saranno davvero piccini ottimi da mangiare però al fine poi di creare un piatto che vi possa saziare ce ne vorrebbero davvero tanti quindi a quel punto io consiglio di lasciarli crescere e farli diventare dei fiori col passare dei giorni la pianta è cresciuta davvero tantissimo guardate un po' come i boccioli si siano sviluppati il gambo è diventato alto e all'apice adesso alcuni di loro si stanno schiudendo ed eccolo qua questo è il fiore una volta che si è aperto ed è sbucciato questo è ciò in cui si trasformerà un insieme di tanti piccoli bellissimi fiorellini gialli che daranno l'effetto di bouquet e se i fiori saranno fecondati si trasformeranno in piccoli baccelli che poi cresceranno e una volta maturi all'interno si potranno raccogliere i semi eccoli qui man mano che si sviluppano secondo risultato sviluppo della piantina e successivo sviluppo dei broccoli anziché il broccolo la seconda possibilità è che vi nasca direttamente la piantina questa a quel punto si svilupperà crescerà e farà dei frutti grandi e buoni da mangiare infatti le dimensioni delle piantine che stanno nascendo sono decisamente più grandi rispetto a quelle che poi sono diventati dei broccoletti trascorsi 45 giorni da quando abbiamo inserito il ceppo all'interno del terreno così è come appare la pianta alta circa 10 cm quasi certamente col passare dei giorni il tronchetto dal quale è nata la piantina tenderà ad asciugarsi e a sparire ed è una cosa assolutamente normale e fisiologica proprio perché la piantina che è nata per crescere sta assorbendo proprio da lui tutti gli elementi di cui ha bisogno arrivati all'ottantesimo giorno di foglioline ce ne sono ben quattro assolutamente sane e perfette e sembra che nel centro ne stia nascendo una quinta e al quarto mese la pianta è completamente sviluppata alta circa 30 cm e quando la pianta raggiungerà la sua maturità finalmente inizierà a produrre anche i primi frutti e lo farà all'apice proprio nella parte centrale qua adesso è davvero piccino si parla di circa un centimetro ma col passare del tempo questo crescerà e diventerà grosso esattamente come quello dal quale abbiamo iniziato l'esperimento trascorse a meno di una settimana riprendendo il tutto guardate un po' come il frutto si sia sviluppato si è più che raddoppiato adesso è di circa 4 cm di dimensione direi che davvero tutto sta procedendo nel migliore dei modi col passare dei giorni il frutto cresce sempre di più quindi non resta altro che aspettare che questo sia completamente maturo dopodiché raccoglierlo e quando il frutto sarà maturo proprio come in questo caso lo si potrà finalmente raccogliere e gustare e con questo il video si conclude spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo e se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento mettete un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete dategli anche un'occhiata grazie